insomma l'ora è buona l'ora è buona la convocazione guardo viena per la regia e buonasera a tutti penso che possiamo cominciare segretario l'appello allora giovannini non dire che Raiza del buono bovina non li conosco tu mamma no non c'è ancora Ori Davide Pasqualini Bonina Marco si Quattrini Maria Ida si Pantuzzi Fabio si mi conoscerò Peralti Ida presenta Albertina Maria Anna Marita presente Baccari Cristiana no ah si dovrebbe arrivare dovrebbe arrivare Ventura non c'è bene primo punto all'ordine del giorno approvazione verbale della seduta consigliare del 15 novembre 2012 verifico e litigo chi era assente erano assenti Raisa bovina a mano e Ventura Fabrizio non ci sono richieste metto ai voti punto numero uno all'ordine del giorno chi è favorevole alzi la mano nove nove chi si astiene uno grazie a tutti grazie a tutti